E come annunciato in apertura di puntata, questa mattina vogliamo aprire una importante finestra relativamente ad uno degli argomenti di maggiore interesse, non solo per la stretta attualità ma anche per le implicazioni all'interno della cronaca che abbiamo ascoltato. Mi riferisco nello specifico al caso di Pescara, del povero Christopher, ma più in generale di tanti altri casi che in Italia per fortuna non terminano con esiti nefasti ma che davvero occupano i pensieri di tanti. Sto parlando di dispersione scolastica e questa mattina vogliamo affrontare questo argomento con il professore Stefano Orlando della comunità di Sant'Egidio, responsabile delle attività per i giovani della comunità. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora professore, partiamo dal progetto davvero molto molto interessante, Viva la Scuola, perché la comunità di Sant'Egidio si è spesa, si spende e si spenderà per i ragazzi contro questo fenomeno della dispersione scolastica che coinvolge tutte le città d'Italia da nord a sud. Voi vi siete concentrati nello specifico nella città di Roma ma anche ovviamente in altre località e il 24 giugno scorso in Campidoglio avete presentato i risultati di questo progetto appunto che ha visto coinvolti oltre 2000 bambini. Allora vuole farci un po' un riassunto di cosa è successo. Sì, diciamo che questo programma nasce durante la pandemia, quando tutti conosciamo i problemi diciamo che hanno avuto tutti i bambini chiaramente ma soprattutto quelli che venivano da famiglie più svantaggiate. E proprio dopo la pandemia i tassi di dispersione scolastica sono aumentati e quindi abbiamo cominciato questo programma che si chiama appunto Viva la Scuola e che poi è continuato anche dopo diciamo la fine della zona rossa, del lockdown eccetera, perché ci siamo resi conto di quanto questo problema della dispersione scolastica, della povertà educativa fosse diffuso. Giustamente parlava di Roma e diceva in tutta Italia, la realtà è che il problema riguarda tutta Italia ma in maniera diversa perché è al sud molto più che al nord e anche nelle città di Roma all'interno di tutte le città ci sono forti disuguaglianze, soprattutto tra le periferie delle città e i quartieri diciamo più agiati. Ci siamo concentrati su Roma questo 24 giugno proprio perché volevamo parlare, è stato un incontro al Campidoglio, quindi avviando un dialogo tra le istituzioni e il territorio. Volevamo un po' costruire un ponte tra appunto il centro della città, le periferie e chi ci lavora. E il nostro programma appunto è un programma che si articola su vari punti, abbiamo una centrale operativa con un contact center che riceve segnalazioni, e proviamo a identificare diciamo come dire i sintomi dell'abbandono prima che questo avvenga, quindi quando i bambini iniziano ad andare male a scuola, a non frequentare a sufficienza o a manifestare altri tipi di disagio. Offriamo noi stessi dei servizi, cioè soprattutto i cosiddetti facilitatori scolastici, cioè delle figure che mettono in contatto la scuola e le famiglie, ad esempio quando un bambino non viene più e magari gli insegnanti non sanno neanche il motivo, proviamo noi ad andare a casa, a capire la situazione o viceversa. Potremmo dire che finiscono i servizi, poi dei mediatori interculturali per i bambini provenienti da altri paesi, anche a volte ci chiedono aiuto per problemi di salute, soprattutto di salute mentale, abbiamo una scuola di lingua italiana per bambini e più grandi, oppure mettiamo in contatto questi minori con dei servizi già esistenti, li aiutiamo ad esempio ad avere buoni libri, a iscriversi a scuola, e a risolvere molti altri problemi. Quello che dicevo è che abbiamo due profili di bambini, abbiamo quei bambini, soprattutto migranti, che desiderano loro e le loro famiglie fortemente andare a scuola, ma si scontrano con dei problemi burocratici, a volte banali, ad esempio questo dei buoni libro, semplicemente la difficoltà di fare una domanda online per cui ci chiedono aiuto e riusciamo a risolverlo anche in breve tempo, a volte molto complessi come l'iscrizione tardiva, cioè sebbene in Italia ci sia un diritto alla scuola sempre, quando un bambino si presenta dopo la scadenza dell'iscrizione diventa complicatissimo ottenere questo diritto, cioè l'iscrizione a scuola. E questi sono in gran parte migranti. E poi invece abbiamo dei minori che non manifestano alcun disagio, almeno non lo manifestano in maniera evidente, che sono quelli che sono iscritti a scuola, ma che piano piano cominciano ad allontanarsi. Poi le statistiche misurano la dispersione alla fine del percorso scolastico, cioè quando non si iscrivono al liceo, ma il problema inizia già alle elementari. Noi abbiamo ricevuto solo a Roma circa 800 segnalazioni all'anno, nei due anni e mezzo da cui è attivo il programma. E segnalazioni di bambini, più della metà sono bambini che non hanno l'iscrizione in tutte le fasce di età, non solo quelli da 0 a 5 anni che è normale che non siano iscritti ancora alla scuola dell'obbligo, ma anche alle elementari, alle medie e al liceo, diciamo tra i 14 e i 18, in tutte queste fasce abbiamo quasi la metà dei minori che non sono iscritti a scuola e questo chiaramente è inaccettabile perché se c'è un diritto è quello della scuola. Professore, una cosa che mi colpisce, lei non utilizza la parola ragazzi, utilizza la parola bambini, il che ci fa capire in maniera forte il fatto che non stiamo parlando comunque di ragazzi che in qualche maniera hanno già un percorso scolastico avviato, ma di bambini, cioè quindi siamo proprio ai primordi dell'attività educativa e uno dei dati infatti che volevo commentare con lei è relativo al fatto che, come avete scritto, il 16,5% degli studenti che in tutta Italia frequentavano il primo anno di scuola media e che hanno poi abbandonato gli studi tra il 2013 e il 2022, primo anno di scuola media, quindi parliamo di ragazzini di 10-11 anni all'incirca. Sì, sì, appunto, io sulla parola bambini in realtà la parola corretta è minori, nel senso che chiaramente è un fenomeno che riguarda tutti dai 0 ai 18, però poi mi viene spesso alla bocca la parola bambini perché proprio nel programma, nell'attività che facciamo, molti di quelli che incontriamo sono proprio bambini delle scuole elementari, anche perché è lì, diciamo, che i problemi iniziano a maturare. In realtà studi, molti studi, adorevoli studi scientifici da decenni dicono che la fascia dove intervenire per avere maggiori risultati è quella 0-3, cioè già dai 0 ai 3 anni garantire l'accesso alla scuola materna, a un'attività educativa fa la differenza per tutta la vita. Però ecco, poi noi incontriamo molti bambini delle scuole elementari che hanno difficoltà con la scuola e queste difficoltà a quell'età sono quasi sempre poi il risultato per cui non si completa il ciclo scolastico. Quindi è già da lì che bisogna intervenire. In realtà non solo loro, perché poi ecco, soprattutto sui migranti, tantissimi hanno dai 14 anni in su, ragazzi arrivati in Italia o da poco o anche non da poco, perché a volte anche ragazzi che sono qui da diversi anni, che però un po' per la lingua, un po' soprattutto per le difficoltà burocratiche, che faticano a inserirsi nel sistema scolastico che invece è la più grande, diciamo, agenzia di integrazione oltre che l'educazione. Senta professore, le chiederei un commento sui recenti fatti di cronaca. Ora sappiamo che, diciamo, il tema della dispersione scolastica probabilmente è anche un po' marginale rispetto anche a quello che è successo a Pescara. Tra l'altro, ricordiamo, ieri ci sono stati i funerali del ragazzo, Christopher Luciani, che è stato ucciso da alcuni suoi coetanei. La comunità di Sant'Egidio, nello specifico, si è spesa molto a Pescara per sensibilizzare i ragazzi proprio a cambiare rotta, perché il tema della scuola è un tema fondamentale, che tiene lontano i ragazzi dalla droga, dall'alcol, da tutte quelle brutture che purtroppo li costringono tante volte a crescere prima e a crescere male. Sì, assolutamente. Sicuramente, diciamo, questo, come dice lei, non si possono fare, diciamo, dei collegamenti diretti tra un caso specifico, come quello di questo ragazzo Thomas, è una questione generale che è quella della dispersione. Però, se c'è un tratto comune è, da una parte, quello che le dice. Cioè, più i ragazzi sono integrati, quindi integrati non solo gli migranti, a tutti, diciamo, legati agli altri, in delle redi sociali, in delle agenzie educativi, più si prevengono episodi come questo. Però, anche l'altro tratto, quello che abbiamo ricordato durante la veglia, molto partecipata, che si è svolta a Pescara, è quello della misericordia. Perché spesso il grande problema riguarda un giudizio stroncante sui ragazzi, che è lo stesso che vediamo col programma che va alla scuola. Cioè, l'idea che quando questi minori si allontano dalla scuola o hanno dei problemi, è colpa loro. E, ecco, queste sono proprio le immagini della preghiera a cui accennavo. È colpa loro. Ma questa necessità quasi, diciamo, istintiva di dare la colpa è il modo di non risolvere alcun problema. Perché non si tratta sempre di giudicare e poi di condannare, ma di capire, di capire le difficoltà, di capire gli ostacoli, di capire come aiutare le persone a risolvere i problemi. E questo, ripeto, lo vediamo anche quando i bambini si allontano dalla scuola e c'è un giudizio nei loro confronti, nei confronti delle loro famiglie, mentre invece bisognerebbe, a parte che poi dare la colpa a un bambino di 5-6 anni è veramente qualcosa di, diciamo, incomprensibile. Perché se si può dire che qualche adulto fa giustamente quello che sbaglia consapevolmente non si può dire per i bambini. Però anche nei confronti di Thomas, di tanti ragazzi così, c'è una esclusione dalla società perché non vengono capiti, perché non vengono valorizzati e anche perché non ci sono in certe realtà delle proposte per loro. E la scuola potrebbe veramente... Tutto il discorso pensiamo anche all'apertura pomeridiana delle scuole, tante cose che sono nei programmi, ma che poi non sono di fatto realizzati, o almeno non come quanto dovrebbero e potrebbero. Ma soprattutto, per chiudere, se c'è un atteggiamento da eliminare è quello dell'indifferenza, che è poi il contrario di quello che lei diceva della misericordia, della pietà, che appunto in qualche maniera devono interessare tutti quanti noi e devono costringerci, ecco, utilizzo proprio il verbo costringere, a non essere indifferenti di fronte a queste situazioni così particolari che però ci colpiscono tutti. Non so se concorda, professore. Concordo, concordo assolutamente. L'indifferenza vuol dire, diciamo, creare delle reti in cui ci si unisce realtà di tutti i tipi e si cercano quelli che hanno bisogno. Questo esempio di Viva Scuola, noi abbiamo dato un titolo, è il titolo di un programma, ma è il frutto della collaborazione di Sant'Egidio con gli istituti scolastici, con l'ufficio scolastico regionale, con la fondazione L'Impresa Sociale con i bambini che ha finanziato alcuni aspetti di questo programma con il progetto Volo in Circolo. Questa rete che si mobilita per andare a cercare tanti minori che sono entrati nel programma, ci hanno cercato loro, soprattutto i migranti, ma tanti altri non ci avrebbero mai cercato. E l'indifferenza vuol dire che quando uno nota un segnale di qualcosa che non va, chiede aiuto, chiede aiuto a qualcuno, lo segnala, se ne parla. Mentre purtroppo quello che spesso avviene è che semplicemente si ignora dicendo o è colpa sua o non ci si può far nulla. E questo purtroppo alla fine rende la nostra società più dura per tutti, non solo per quelli che soffrono di più, ma tutti poi viviamo in una società inaccogliente e quando è indifferente alla fine è più dura anche per noi. Professore, io la ringrazio davvero tanto e davvero per le sue parole perché ci hanno aiutato anche a capire le varie interconnessioni, potremmo dire così, che ci sono tra i vari fatti di cronaca che succedono quando coinvolgono i ragazzi e il fenomeno della dispersione scolastica e l'importanza della scuola che non bisogna mai sottovalutare. Grazie, grazie di cuore professore. Grazie a voi per questo invito e per questa interessante conversazione. Grazie. Ringraziamo il professor Stefano Orlando, noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme. Grazie. Grazie. Grazie.